Dottor Antonio Stivanello, Vice Direttore Dipartimento delle Dipendenze Padova. Quali sono le dipendenze, qual è il percorso di recupero e qualche dato inerente al territorio? Beh, è una domanda ampia, nel senso che adesso noi ci occupiamo sia delle dipendenze con sostanze, sia con le dipendenze senza sostanze. Dipendenze senza sostanze sono, ad esempio, il gioco d'azzardo. Rimangono però tutte le altre dipendenze e andiamo dalle politossicomanie che ci sono sempre state e che sono quelle in cui uno fa uso di qualsiasi tipo di sostanza, soprattutto eroina, una cocaina, LSD, Aschis e a quelli invece che sono monosostanza. Quindi cominciamo ad avere molte più persone che usano, per esempio, cocaina. Cominciamo a occuparci anche in particolare dei ragazzini che usano Aschis e che creano poi problemi. In più abbiamo tutto il problema degli alcolisti e del problema dell'alcol. Quindi i nostri numeri sono sui 2000 la persona in carico tra una sostanza, l'altra e l'altra ancora. Il percorso di recupero passa sempre attraverso una prima diagnosi in cui il paziente viene accolto, viene accolto da un educatore, poi dopo c'è un medico che fa una diagnosi. Sulla base della diagnosi si possono usare dei farmaci oppure no. Ci sono poi dopo degli psicoterapeuti e degli terapeuti che fanno un percorso che può essere di tipo individuale, con delle psicoterapie, oppure delle psicoterapie familiari, abbiamo un servizio di psicoterapia familiare, oppure delle riunioni di gruppo, per esempio per smettere di fumare. Le azioni che si fanno sono estremamente complesse e si cerca di dare delle risposte il più individualizzate possibile alle varie persone. A sua detta e a sua esperienza qual è la più difficile delle dipendenze da sradicare? Una delle dipendenze più difficili è sicuramente quella da cocaina perché abbiamo poche armi farmacologiche per contrastarle ed è estremamente difficile. Una delle più difficili e più subdole invece sono quelle da sostanze tipo estasi che colpiscono soprattutto i ragazzini che non si rendono conto dei rischi a cui vengono sottoposti. Chiudiamo con ottimismo, comunque se ne esce? Si, se ne esce con difficoltà e con impegno da parte di entrambi, di tutti, cioè da parte della società, da parte della famiglia e da parte dell'individuo.